Ciao a me, c'è una recensione, vi provo il top 1 al 3506 con questa bella grande cover di Ivan Bigarella che celebra nuovamente per l'ennesima volta Paperino e il suo alter ego, Paperinic, una storia su area 15 che secondo me è davvero molto meritevole in relazione a questi personaggi. Guardiamola meglio insieme. Vediamo lo sguardo alla bella cover in questione che celebra appunto il personaggio e il suo alter ego di Bigarella molto carina, seppur apparentemente semplice, in realtà anche soltanto guardando il concept design, l'idea, la matita e anche la bozza di colore, il tutto è sicuramente complesso. Mi interessa particolarmente questo teaser, il principe delle sabbie, che non ho idea di cosa sia ma per prospettive e colori mi intriga parecchio al disegno, mentre qua Silvia Ziche che come sempre ci comunica quello che è l'estro artistico di Paperino e poi Alex Bertani che non parla minimamente di quello che sarà l'aumento di prezzo che vedremo ormai ufficializzato fra due numeri, fra 14 giorni, ma era scontato. È probabile che quel momento accadrà o col numero stesso o col numero precedente, quindi con il prossimo. Ciò che mi ha fatto sorpreso è il discorso suo Quack, perché non vi sarà solamente il classico dedicato a questo personaggio che mi tenta molto recuperarlo, perché dopo Cornelius Cut è il mio papelo preferito, poi comunque Candy è un maestro del fumetto, ma perché salto in avanti nelle pagine, nel sommario finale, effettivamente spunta fuori una storia suo Quack. Non me l'aspettavo, io avevo l'idea insomma fino a poco fa che questo personaggio tornasse solo sul classico, invece dopo circa 35 o forse 40 anni lo troveremo nuovamente anche sul Topolino. Ma parliamo dell'indice di questo numero che vede una storia d'apertura per me memorabile, probabilmente la miglior serie nell'era Bertani, ovvero Aria 15, tanto che è una sua idea che poi Marco Nucci ha portato avanti. Non ricordo se dal primo episodio, ma in ogni caso la conduzione è perfetto. Aria 15 è origin story, Bertani, Nucci e Ermetti, un mostro sacro del fumetto nel disegno. Poi due storie come ormai di routine dedicate a Paperina e Paperina e Love Quack, una storia di Paperino che secondo me è la famosa ultima storia di fondo barile che andava ancora smaltita della precedente redazione. Bertani lo ha mise in uno scorso intervento live e poi l'ultima parte del Capitano Nevo per poi concludere Coppola con Paper Monster Chef. Questa è la prima storia, ovvero Aria 15 è in origin story. Una storia che graficamente merita tutte le attenzioni, non solo per il colore, per il disegno, ma anche per le ombre. Tanto che Libero Ermetti ne parla anche di come ha lavorato in questa storia. Quindi anche qua mi permette di andare un attimino avanti perché la differenza è importante. In questo caso il colore, sono sincero, mi attrae parecchio. Guardate il bellissimo disegno, come rimango sempre affascinato, in stile bianco e nero, insomma, senza colore. Poi soltanto colorato e con le ombre, che non so se è libero a inserire, ma che comunque in qualche modo ha indicato, il tutto è perfetto. Veramente una storia che non so quanto lo abbia impegnato, ma presumo un bel po' di mesi. Insomma, la trama di base vede il protagonista di Paperinic perché i paperotti di Aria 15, in particolare Ray, perché non ricordasse il bambino di Federotelle, e qua, che sono sui fanatici, vorrebbero creare un fumetto su Paperinic. Questo perché aspettano il classico concorso annuale di un tal Le Tenenbaum, che è un personaggio che ogni anno, appunto, indice quello che è un concorso per aspiranti fumettisti, disegnatori e sceneggiatori. Solo che il tema indicizzato dall'editore, in questo caso, non è il classico che ci si aspettava legato a mostri e robottoni, ma su una storia di realtà. E per cui, inizialmente, sono un po' scossi i paperotti, perché avrebbero preferito la classica storia zombesca o mostruosa, fantascientifico, surreale. Eppure, parlando poi fra di loro, viene l'idea a tutti di realizzare una storia con Paperinic personaggio. Nulla di più realistico, quindi una storia che parla di come nacque Paperinic. Noi tutti lo conosciamo da lettori, ma i paperotti no. L'unico che ovviamente sa chi è Paperinic è, appunto, Paperino, il suo alter ego, ma che ovviamente Paperotti non potrà mai dire. Chissà se arriverà mai il giorno, dubito, si perderebbe probabilmente quella magia e bisognerebbe spiegare tante cose ai Paperotti. Il personaggio che maggiormente mi ha stupito, ma come di fatto ne rimango spesso sorpreso da esso, è, appunto, Ray, il bambino disabile. Un bambino che però non perde la passione, non perde la determinazione, la grinta, la volontà e neanche l'idea, tanto da farsi coinvolgere, appunto, con qua, nella realizzazione del fumetto. Ci sarà un piccolo colpo di scena, tra virgolette, che manderà in confusione i paperotti, ma la storia è veramente emotivamente interessante. Tra l'altro si parla di metafumetto, perché i paperotti, che in realtà è sempre il libro di Ermetti, disegnano effettivamente, anche solo con l'immaginazione, ma poi in effetti anche nel concreto, il loro fumetto. E quindi l'autore, in questo caso, ha dovuto disegnare con uno stile differente. E vi è una tavola davvero carina, perché, eccola qui, è un mix fra lo stile, il tratto dei paperotti, con il colore alla topolino, insomma, alla fumetto che conosciamo, ma al tutto molto particolare. Ma l'autore si è cimentato in un'opera davvero magistrale. Area 15, lo ripeto, è la migliore serie delle Rabbertani, la migliore degli ultimi quattro anni, a tal punto che io, ma non perché sono io, in generale, ho citato Area 15 nella mia tesi di laurea, perché l'ho ritenuta una storia talmente importante, interessante, con dei concetti, con delle morali non scontati e non ridondanti, perché ogni storia, poi, a parte forse le prime introduzioni, parlano anche di amore, di passioni, di delusioni, di soddisfazioni, di sentimento. E quindi la storia parte automaticamente con un punto in più. A priori di averla letta, appena io ho letto nell'indice Area 15, già sapevo di leggere una grande storia. Poi Marco Nucci, liberamente, il tutto è stato ampiamente confermato, ma anche banalmente il dettaglio che c'è nei disegni mi sono rimasto a bocca aperta. Per esempio, in questo disegno, che magari qualcuno dice poco, eppure mi sono focalizzato su ogni pilastro, su ogni linea. Che bella è la casa, direi! È spettacolare! Ma così, ripeto, come in realtà ogni vignetta. Ho perso le parole, la storia poi ha un suo lieto fine. Ovviamente non è quello cui i paperotti avrebbero voluto arrivare fin dall'inizio, però il lieto fine sta nel fatto, a mio parere, che il tutto è soltanto l'inizio, è solo un primo traguardo che comunque sono riusciti a realizzare. E poi l'ennesima intervista a questo giro, però, davvero interessante, è proprio perché viene spiegato a quest'idea del fumetto nel fumetto, insomma, il meta-fumetto. Guardate ancora che bei disegni in bianco e nero, già più che abbozzati, di libero e remetti. Ha uno stile molto particolare questo autore, lo vediamo poco, ma quando lo vediamo è sempre sul pezzo, non ne sbaglia una. Poi il classico sportivo, che ovviamente Topolino piace leggerlo e molto volentieri. Poi Paperino Paperina, Love Quack, una giornata perfetta, ma prima uno sguardo in silenzio a questo bellissimo disegno, questa opera d'arte di Andrea Freccero. È veramente stupendo, mi sbilancio a dire, i nuovi visitanti di Freccero, praticamente dal primo cui questo artista arrivò nel Topolino, sia come disegnatore, come vignettista, che come copertina, perché dovrei avere tutte le sue storie, ma questo mi sbilancio a dire che è il più bello che lui ha realizzato ad oggi. Il colore fa la sua parte, ma la profondità, le espressioni, l'allegria che mette quest'immagine, il dettaglio, è stupendo. Passiamo alla storia, Giorgio Fontana e Stefano Intini, ennesima storia gag, vignettistica, molto semplice, veloce, delle storie di Paperino e Paperina. Insomma, questa avventura che continuano in virtù del San Valentino, sia a disegno di Intini, che a me comunque continua a piacere, e sia con quello di Silvia Ziche, che è ovviamente piacevole a priori, proprio per l'autrice in questione. Insomma, non penso che vi sia una morale finale, se non quello che l'amore vince su tutto, per quanto Paperino sia distratto, disattento, una persona molto sfortunata, Paperina continuerà sempre ad amarlo, o comunque a volergli bene. Paperino e la moda del pavone, storia di Giulio Gualtieri e Francesco Guerrini. Sull'autore alla cegnatura non ho nulla da dire, perché non lo ricordo, probabilmente a poche sono l'ha già fatta, il nome dice qualcosa, ma non saprei come indicarlo. Guerrini è un autore con un sentimento strano, perché oggettivamente potrebbe essere anche interessante, sicuramente è affascinante, è piacevole perché si riconosce subito che è lui, da quando tra l'altro non c'è più neanche Asteriti, che in qualche modo simile a Guerrini, a mio avviso, infatti avevo fatica a ricordarli, a riconoscerli perché erano simili, Guerrini è l'unico rimasto con questo stile così retro. Qui secondo me, paragonandolo con Marco Rota, quest'ultimo è molto più moderno, quindi Guerrini ad oggi è il disegnatore, secondo me, più vecchio nello stile, presente sul topolino. Però soggettivamente, per quanto affascinante, non mi piace, non riesco a digerirlo. Eppure forse andrebbe maggiormente goduto, come dice anche Maurizio, un fan, un collezionista di fumetto francese, che come avete visto in un video qualche giorno fa sul canale, Guerrini c'è, viene pubblicato. In ampio formato sarebbe meglio, perché in questo piccolino non rende l'idea. Guardate che bei disegni, per quanto abbozzati, Guerrini ha questa particolarità di essere piacevole comunque da vedere, affascinante, penso che sia questo il termine giusto. Che poi piaccia o no, è indubbio che sia particolare. E la storia in realtà è molto gag, molto simpatica, nulla da dover dire, dimenticabile, in cui Paperino di colpo nota, scruta che l'intera Paperopoli è agghindata da Pavoni, non si capisce il motivo, c'è questa nuova moda del Pavone in città. Nel mentre Paperoga, per mandarlo in confusione come sempre fa, e come riesce, conta i passi. Non c'è un vero scopo a ciò. La storia ha nulla, non ha nessun tipo di morale, se non quella di divertimento, di spensieratezza, comunque piacevole. E dopo una serie di redazionali abbiamo anche l'ennesimo, come ogni anno, riguardo a Sanremo. Io mi sbilancio dicendo che, guardandolo, perché comunque mi piace, mi intrattiene la musica, quindi perché no guardarlo, anche se non farò le due, per guardare ogni puntata, ma molto prima spegnerò, ti farò per elodie. Oltre a essere una bellissima donna, è una bellissima ragazza, ha anche una bellissima voce e una bellissima presenza, ma questa è una mia opinione. La benvenzione del Capitano Nemo, terzo episodio, il segreto del Capitano Nemo, Artibane Pastrovicchio. Continuo a dire, lo dirò sempre, che questa rubrica, nelle puntate precedenti di Marco Nucci, per quanto sia di Nucci, è qualcosa di molto confusionario, che io non approvo. Preferivo molto di più, e lo ripeterò sempre, quando Barbara Garufi dava un'introduzione molto più discorsiva, ma sicuramente più intrigante, più comprensibile. Di queste vignette, sicuramente logicamente inserite, ma che comunque non intrigano un lettore, a me in primis. E ovviamente siamo all'interno dei conti, e quindi vi è l'ennesimo conflitto tra il nemico di turno, che è Vulture Ride, e Capitano Nemo. Io di questo genere di storie, non gradisco l'azione. L'azione è molto surreale, fatta di laser, di particolari marchi ingegni, strumenti, lascio stare. Quindi lasciando stare l'azione, che dura per circa 10-15 pagine, in realtà la storia è piacevole, perché analizziamo sempre di più quello che è il personaggio di Capitano Nemo, scoprendo che i cristalli, che da sempre lui continua a dire come elementi fondamentali per la vita non solo sua, ma anche del Nautilus, banalmente, cominciamo a scoprire qualcosa di più, anche del passato del Capitano Nemo. A quanto pare, vi sono questa popolazione di pippidi, che continuano a vagare nello spazio-tempo, come se fossero addormentati in dei cristalli, ma che in realtà, in qualche modo, supervisionano la galassia, senza un preciso scopo, se non quello di alimentare la conoscenza e sapere. E io penso che l'idea sia valida, per quanto soggettivamente non mi piace, perché ritengo ancora in questo numero che la storia preferita di questa terza parte sia stata la prima. La seconda non mi è piaciuta, onestamente, quest'ultima se la cava perché comunque non c'è solo azione, ma c'è anche un po' di scoperta del passato. Ma oggettivamente, probabilmente piace, anche perché parliamo di Artibani, che alla chianeggiatura è uno dei migliori in circolazione del Topolino, e di Pastor Vico, che non delude un colpo. C'è una tavola, mi pare, splash all'inizio. Eccola qui, ma non è soltanto questa. Ogni disegno, a mio parere, è molto valido nell'espressione dei personaggi. Poi, questo dinamismo dà a Pastor Vicchio quel compito di rendere la storia anche godibile agli occhi, e ci riesce benissimo. Io do voto 7. Non di più, perché soggettivamente non mi è piaciuta, ma per l'oggettività, per l'idea, anche per l'azzardo di voler portare un'innovazione, una storia totalmente topoliniana, e non solo rilegata a Jules Verne, quindi riferendosi al grande autore, secondo me è ben riuscita. Per quanto io non comprerò mai la Deluxe Edition quando sicuramente uscirà, e nel tanto meno sono uno di quei tifosi che spera in un continuo, perché onestamente non mi interessa. Ma comunque pensavo peggio, ecco, per quel che ricordavo. E poi qualche cover, realizzata da qualche bambino, sempre più promettente al disegno, molto carini, c'è poco da dire, bisogna soltanto ammirare questi prodigi di 9, 10, 11 anni. Io a quell'età probabilmente non lo so, non avevo neanche l'idea di disegnare così bene. Sì, qualcuno può pensare a un ricalco, a una copiatura, ma anche a copiare non è facile a quell'età. Ok? E anche il colore devo dire che è ben fatto, quindi onore a loro. Io, Pippo, Best of Paperopoli, Paperino, che tra l'altro ho acquistato, eccolo qui, con la moneta in topolinea, devo ancora aprire, in realtà, con mio papà devo ancora pensarci se aprirlo, perché lui, onestamente, ha un po' di volte che non lo legge. Mio papà, che è cliente da 40 anni, oltre che mio nonno al tempo, per la prima volta mi dice, sai, non lo so, gli ultimi numeri non mi stanno piacendo. Ecco, questa è una presa di posizione importante. Io, ripeto, non so quanti centinaia, quante migliaia di clienti comprano mensilmente tutti i mesi Paperino, ma per dirlo lui, che non perché sia lui, non perché abbia cultura del fumetto, ma per dirlo lui che ha visto un declino veramente brutto del Paperino, lui che è un fan del personaggio della serie, insomma, fa riflettere e quindi quasi quasi lo terremo chiuso, perché c'è la moneta, non per un'questione di valore per rivenderlo, ma è così. è quasi meglio tenerlo chiuso che aperto, il che, a mio avviso, fa riflettere. E poi, Paperini, che con l'ennesimo albo anch'esso mensile, Hot Wheels, macchine simpatiche che arrivano con una rivista, e poi, l'ennesima cover dedicata a San Valentino, a cui ci stiamo inesorabilmente avvicinando, la storia sua qua, che io non vedo l'ora che mi arrivi settimana prossima al fumetto, quando arriverà, non importa, per leggere questa storia, perché sono veramente emozionato al suo ritorno di un personaggio che io ho letteralmente amato in ogni sua sceneggiatura di Carlo Candy. Una storia su Topolino, episodio 1 di 2, di Alessio Coppola, sono veramente curioso anche dal titolo, altre due, ovviamente, di Love Quark, Banda Bastotti, Machine Meet Adventures, e poi direi due storie monopagina di Coppola e Gagnor. Termina ancora Coppola e questo era il fumetto, un fumetto che sarà forse troppo alto, ma io do voto 9, perché quando c'è Area 15, il voto automaticamente sta sull'8, il voto di Topolino. La storia poi sarebbe da 10, a mio avviso, ma sul Topolino in sé una storia che ho gradito particolarmente non c'è stata, eccetto questa. E quindi io do 9 per Area 15, tutto il resto dimenticabile, ma ragazzi, è una storia che non si può non leggere, tra l'altro, per chi ama Area 15, non abbiamo continui nel prossimo numero, sicuramente avremo un rimando prima o poi in un altro fumetto e quindi per chi ama solo questo tipo di storie si può leggere quest'albo e aver letto una grandissima storia di Marco Nucci. Detto ciò, vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao ciao.